Benvenuti nel mondo degli orologi Salvatore Ferragamo. Salvatore Ferragamo è un marchio di moda italiano fondato nel 1927 a Firenze, in Toscana. Oltre alla produzione di abbigliamento, calzature e accessori di moda, il marchio ha ampliato la sua offerta con la produzione di orologi di lusso. Gli orologi Salvatore Ferragamo si distinguono per il loro design elegante e sofisticato, che unisce la tradizione artigianale italiana alla ricerca dell'innovazione. Ogni orologio è realizzato con materiali di alta qualità, come l'oro, l'argento, il titanio e la pelle, e utilizzando tecniche di lavorazione artigianale per garantire la massima precisione e qualità. La vasta gamma di orologi Salvatore Ferragamo include modelli classici, sportivi ed eleganti, pensati per soddisfare le esigenze di chi cerca un orologio di lusso. Tra i modelli più apprezzati ci sono gli orologi con cassa in oro rosa o argento, con cinturino in pelle e con quadranti dalle forme e dai colori vari. Gli orologi Salvatore Ferragamo sono dotati di funzioni avanzate, come il cronografo, la data e la fase lunare, che li rendono ancora più funzionali e pratici da utilizzare. Molti modelli sono anche resistenti all'acqua, garantendo una maggiore durata nel tempo anche in presenza di acqua o umidità. Il rapporto qualità-prezzo dei prodotti Salvatore Ferragamo è molto competitivo, grazie alla cura dei dettagli nella progettazione e nella realizzazione. Grazie al design elegante e sofisticato, gli orologi Salvatore Ferragamo si adattano perfettamente a qualsiasi look e occasione, diventando un must-have. Ogni minimo dettaglio è curato con la massima precisione. Il design elegante e sofisticato, unisce la tradizione artigianale italiana alla continua ricerca dell'innovazione. Gli orologi Salvatore Ferragamo sono pensati per soddisfare le esigenze di chi cerca un orologio di lusso e di alta qualità, ma anche per chi vuole distinguersi con stile e personalità. Le funzioni avanzate rendono gli orologi Salvatore Ferragamo ancora più funzionali e pratici da utilizzare. Il cronografo, la data e la fase lunare sono solo alcune delle funzioni disponibili, che garantiscono un'utilità quotidiana e una maggiore precisione nella misurazione del tempo.